Rinnovata per altri tre anni la collaborazione fra Unicop, Firenze e Fondazione Maier per il sostegno all'ospedale pediatrico fiorentino. Stavolta il focus dell'accordo è la ricerca scientifica, settore che con il passaggio del pediatrico fiorentino IRCCS a istituto di ricovero e cura carattere scientifico è diventato fondamentale. La ricerca è purtroppo la cenerentola della sanità in Italia, è molto trascurata e quindi il fatto che questo ospedale sia diventato uno dei centri più importanti per la ricerca riguarda le malattie rare dei bambini è sicuramente una grande opportunità e una grande occasione per sostenerla per noi. Unicop Firenze si impegna a fornire un contributo di 200.000 euro all'anno per tre anni. Questa partnership prevede diverse linee di azione di ricerca, la psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, la neurologia pediatrica e la cardiologia pediatrica. La collaborazione tra Ospedale Maier e Unicop Firenze ha una storia che comincia nel 2017 con finanziamenti triennali ed è destinata a durare. La prima parte della collaborazione, come dicevo, è stata più improntata all'aspetto dell'accoglienza del bambino, perché la cura del bambino è a 360 gradi, è la sua parte clinica e lo dico da fruitore dei servizi da quando ero bambino del Maier ma anche nella sua parte naturalmente clinica, perché all'ospedale si viene per curarsi ma si viene per curarsi in un ambiente bello e totalmente incentrato sul bambino.